ok sono davvero affamato forza, andiamo! let's go! ehi, che delizia wow, quanto sono deliziose oh no, ho dimenticato il ketchup torno subito, vado a prenderlo ed ecco qui il ketchup che cosa? dove sono le patate? Jason, dove sono? non lo so, non le ho viste posso avere un po' di lattuga? se la vuoi, tieni pure dai, cominciamo ok molto bene cosa c'è lì dentro? ecco la pausa forza, ho tanta fame bene, è ora di pranzo vediamo che cosa c'è che schifo non mi piacciono le carote la pizza ho la pizza c'è un po' di condimento vuoi condire le carote? va bene, arrivo l'ultima fetta spero che Alex non se ne accorga ecco a te la salsa che cosa? dov'è la mia pizza? non saprei proprio dirti non ho più cibo puoi prendere le mie carote se vuoi sai, assomigliano proprio ad una pizza proprio così forza, cominciamo adesso mettiamo questo allora adesso quello metterò questo allora adesso questo no, meglio questo no, questo ho detto questo mi piace questo pausa forza, andiamo andiamo a mangiare vediamo che c'è da mangiare ecco da bere oh, il gelato ancora cibo sano mangiamolo ah, il gelato ma, ma è una forchetta come lo mangio così? non riesco a prendere il gelato con la forchetta Jason, vado a prendere un cucchiaio dai un occhio al cibo, ok? ok se ne è andato e io ho un cucchiaio lo prenderò tutto io è davvero delizioso allora, hai preso il cucchiaio? ma certo che ce l'ho ma che è successo? dov'è il mio gelato? è quasi vuoto dammi un po' del tuo Jason, ma chi è che ruba il mio cibo? scusa sono stato io ogni singola volta l'ho mangiato ma... che cosa? vieni subito qui ciao 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 Grazie a tutti.